20.000 borse di studio del valore di 2.000 euro ciascuna per gli studenti delle scuole paritarie e secondarie di primo e secondo grado che si trovano in difficoltà economica a causa dell'emergenza Covid-19. Le ha messa a disposizione la conferenza episcopale italiana alla CEI, le parole di ringraziamento da parte di Virginia Kaladic, presidente della FIDE e la Federazione Istituti di Attività Educative. Sentiamo. Non chiediamo privilegi né lemosine ma che sia riconosciuta la libertà di scelta alle famiglie in un servizio pubblico sancito dalla legge 62 del 2000. In questi giorni siamo stati raggiunti dal bando con delle borse di studio a favore dei ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado per dare la possibilità di accesso anche a chi in questa situazione ha avuto dei problemi economici. Pertanto un grande grazie perché questo ci sostiene in questo cammino. Grazie.